L'Inter è in America per una tournée e oggi si misura contro una rappresentativa di quattro squadre. Abbiamo visto una doppia respinta di franzosi e un doppio volo di americani in rete. Adesso azione dell'Inter, Armano scarta il portiere, che finisce a gambe elevate e l'erici segna a porta vuota. Applausi italo-americani. È un giorno di pioggia dopo 48 gradi di siccità. Anche franzosi pagherà il tributo a questa benefica rinfrescata. Scivola e lascia passare il gol americano. Armano sfoggia qualche facile numero virtuosistico. Niers tira al sodo. Carambola in rete, il pallone e tutti.